Come si preparano i campioni dell'Hockey Club Lugano in vista della prossima stagione? Siamo andati a scoprirlo dietro le quinte della resega. Siamo andati a scoprirlo dietro le quinte della resega. Siamo andati a scoprirlo dietro le quinte della resega. Siamo andati a scoprirlo dietro le quinte della resega. Siamo andati a scoprirlo dietro le quinte della resega. Grazie a tutti E dalla Refega è tutto per 0,91 Patrick Mancini